Il programma dell'estate licatese, inevitabilmente a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco Angelo Balsamo, subirà variazioni e non potrà essere rispettato per come era stato stilato. Queste le dichiarazioni rilasciate oggi dal sindaco facente funzione Angelo Cambiano in merito ai diversi appuntamenti che erano stati programmati per il periodo estivo a Licata. Purtroppo, aggiunto Cambiano, i nostri poteri al momento sono legati esclusivamente agli atti indifferibili e urgenti e quindi non possiamo garantire lo svolgimento delle iniziative inserite nel cartellone estivo. Pare dunque che non verrà svolta la fiera che quest'estate doveva fare da corollario ai festeggiamenti agostani in onore del patrono Sant'Angelo, così come non ci sarà il cinema all'aperto o le sfilate di gruppi folk. Dovrebbe inoltre venir meno l'impegno del comune in tante altre manifestazioni in programma, tra queste variazioni per le piazze in programma il prossimo 7 agosto a cura dell'associazione variazioni, i giochi senza frontiere, la caccia al tesoro organizzati dalla Proloco, la rassegna teatrale in programma alla Villa Regina Elena e tanti altri incontri previsti nel mese di agosto ma non solo. E in dubbio, conclude Angelo Cambiano, che chi volesse svolgere ugualmente gli eventi in programma, nonostante l'impossibilità del comune di sostenerli economicamente, potrà farlo e svolgere quindi i diversi momenti precedentemente programmati.